... Allora, dì un po', tu chi sei? Leonardo Gentile Leonardo Gentile Sì, e di che anno? 2005 E da dove vieni? Da Poggio Mogliano Da Poggio Mogliano, società? Da Poggio Mogliano Poggio Mogliano, ok, importa Dopo e, pericolo Mogli Arias Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.